Ora si sente? Sono Nina Songori e io vi farò vedere il seguito della storia che vi ha detto Behrouz, cioè quello che sta succedendo ora, cioè quasi da cinque mesi diciamo siamo entrati nel quinto mese della rivoluzione, e quindi vi volevo far vedere un po' delle cose che magari è più difficile per le persone che non sono iraniane a vederlo, anche perché è un po' difficile trovare le notizie sui social eccetera. E quindi vi ho fatto un po' di slide per spiegarvi cosa sta succedendo. Ah no, questo è PowerPoint. Cambio con le immagini che è più facile. Come vi ha spiegato Behrouz, quello che sta succedendo ora ovviamente non è un movimento che esce improvvisamente così. Praticamente in 40 anni il popolo iraniano è stato oppresso. Ogni quasi decenni all'inizio e poi piano piano ogni cinque anni, ogni due anni, quasi ora ogni anno le persone hanno fatto delle manifestazioni contro il governo. Quello che ora noi riteniamo più una rivoluzione, perché come diceva prima Behrouz, Behrouz comprende tutte le strati della società, da persone più ricche a persone più povere, donne, uomini, bambini, anche di scuole medie, fino ai nonni. I nonni escono tutti insieme per strada per chiedere il loro diritto della libertà, diciamo. Quello che abbiamo visto praticamente è cominciato dalla morte di Mahsa Amini, che era praticamente la goccia che fa traboccare il vaso. Non potevamo più sopportare vedere i nostri giovani che solo per pochi capelli possono essere ammazzati, o possono essere perigionati, o vengono picchiati per strada. Finora il governo, diciamo le forze del governo, hanno arrestato più di 20.000 persone, di cui studenti, giovani, anziani, e hanno ammazzato più di 600 persone. Donne, bambini, tantissimi bambini sono stati ammazzati. E per questo, ormai credo che nessuno vuole tornare indietro, cioè non vogliono più vivere come era prima di Mahsa Amini. Continuano a venire per strada, anche se sanno che possono essere picchiati, possono essere ammazzati, impirigionati, eccetera. Come diceva Behrouz, ovviamente questa cosa è cominciata dalle donne che davano il fuoco al velo, studentesse che andavano a scuola e toglievano il job obbligatorio, e poi piano piano hanno cominciato anche a prendere di mira direttamente i capi del governo, il Khamenei, cioè la guida suprema del regime islamico. Quello che abbiamo visto molto raramente prima è stato quello di, per esempio, hanno cominciato a far saltare il turbante delle persone religiose. Questo fa vedere che fino a quanto questi giovani vogliono andare avanti, non vogliono più rispettare le regole che per 40 anni sono stati tabù, diciamo. Non potevi mai offendere una persona religiosa, non potevi mai dare fuoco all'immagine, per esempio, di Khamenei o le ragazze a scuola non potevano togliere, per esempio, il velo. Questi sono aspetti molto interessanti di queste rivolte e fa vedere quello che veramente le donne iraniane vogliono. Ma partito da questo, ma poi uomini, ovviamente, sono stati sempre accanto alle donne, hanno cominciato a venire per essere anche loro, non hanno mai lasciato le donne sole. Questo è veramente importante in questo movimento. Quello che vi volevo far vedere tantissimo, non so se vi fanno vedere, ma fra le persone che sono state ammazzate sono state più di 60 bambini. Alcuni tornavano da scuola, magari hanno tolto il velo e li hanno sparato. Alcuni, c'è immagine di un ragazzino che vedete con la giacca, era con la sua famiglia in macchina. E li hanno sparato senza motivo, hanno ammazzato questo ragazzo che voleva andare a studiare e lavorare a NASA. E' praticamente per delle cose veramente ridicoli. Cioè per cantare degli slogan, per aver partecipato a manifestazioni, vengono arrestati le studentesse che andavano a scuola. Polizia va a scuola e li arresta e li portano via. Purtroppo ci sono per esempio dirigenti delle scuole che ovviamente vengono scelti dopo una precisa procedura. Quindi devono essere con il governo, devono avere le stesse idee. Quindi chiamano la polizia per venire a arrestare le ragazze se tolgono il velo. Come vedete hanno ammazzato bambini di 7 anni, 12 anni, 17 anni. E purtroppo quello che abbiamo visto, che non abbiamo visto, devo dire, è che Unicef per esempio è stato veramente zitto dopo 50 giorni di questa cosa. Quindi noi veniamo a parlare, a farvi capire perché succedono, perché Unicef non ha parlato. Dovete sapere, cioè non c'è differenza fra bambini che vengono ammazzati in questo ed altri. Per esempio altri crimini del governo, del regime iraniano, che veramente inventano non sappiamo quanto, per esempio uso delle scuole come il punto per aggregazione delle forze militari. Quando sento, per esempio, da Iran, delle persone dicono che le scuole sono diventate come caserme, dove i bambini vengono controllati, non possono più portare il cellulare, perché ovviamente facevano il video quando succedeva qualcosa, ormai stanno soffocando tutte le vie che questi ragazzi o le persone potevano far venire fuori le notizie. Sappiamo anche dell'internet che ora stanno piano piano in silenzio, stanno togliendo internet, quindi arriva fuori veramente pochissime notizie e molto difficilmente. Altre cose, per esempio, nei primi giorni della rivoluzione, come ha detto Behrouz, il regime iraniano ormai, i primi gruppi che prendono, che praticamente cominciano a ammazzare, sono etnie o le città piccole. Per esempio, a Zahedan, nella prima settimana, credo, hanno ammazzato veramente tantissime persone. Io conosco delle persone, ho parlato con loro, e loro mi dicevano quasi 400 persone in un giorno. Poi è venuto fuori 170. Dei racconti incredibili. Uno dei miei amici, ora vi racconto così velocemente, non era nel programma, ma, per esempio, una mia amica dice che il suo cugino era a casa, vengono, lui apre la porta e li sparano, cioè, così facilmente. Ovviamente queste cose non vengono fuori nelle notizie, nei giornali, e purtroppo, tante volte leggiamo delle cose veramente che vogliono normalizzare la situazione, invece noi siamo qui per farvi vedere che non è normale. Quello che succede è veramente molto più di quello che possiamo immaginare. Un'altra cosa che, per esempio, vedete in immagine, uso delle ambulanze da parte delle forze militari per espostare i pirigionieri. Cioè, loro sanno che le persone, se vedono, magari vogliono aiutare, usano le ambulanze per espostare i pirigionieri o le loro forze. Cioè, magari viene un'ambulanza, improvviso escono fuori e sparano sulle persone. Ovviamente, torture durante interrogatori, massimo violenza contro i cittadini che magari nemmeno vanno a manifestare. Ultimamente è uscito fuori, non so se avete visto, un video dove una persona, un militare con fucile, senza motivo, va in marcia a piedi e comincia a picchiare una donna. Praticamente, per fare paura, per creare orrore, così la gente nemmeno viene fuori o parla o altro. Altre immagini, quello che sta succedendo, per esempio, per i studenti. I studenti sono stati sempre oppressi dal regime perché ovviamente sono quelli che prima di tutti cominciano le manifestazioni. In queste immagini vedete come loro sono entrati in università con le armi, da guerra, hanno sparato agli studenti. Abbiamo visto più volte hanno velenato i studenti con il cibo della mensa. Non è un caso, più di tre volte mi sembra che è successo, che come vedete nella prima immagine i studenti poi hanno scoperto e hanno portato il cibo per, insomma, hanno fatto vedere che sanno che sta succedendo. Altre cose che vanno nei dormitori degli studenti praticamente senza un mandato, senza nessuna cosa giuridica, diciamo, nessun mandato da parte di un giudice portano via gli studenti, quelli che sanno che magari sono i primi a manifestare. Ci sono tantissimi studenti universitari che sono in galera e non sappiamo né dove sono né per quale motivo sono stati arrestati. Poi, ovviamente, per creare ancora più terrore all'università minacciano gli studenti a essere bocciati, non li permettono andare all'università, cioè li proibiscono di entrare all'università, praticamente minacciano i professori perché magari i professori devono dire nome degli studenti che hanno partecipato a manifestazione e se non lo fanno o vengono licenziati o vengono minacciati se non dicono chi sono queste persone. Altre cose che abbiamo le prove è questo uso delle armi da guerra contro i cittadini che purtroppo poi hanno scoperto che queste armi erano fatti a Livorno. In effetti all'inizio delle manifestazioni, all'inizio della rivoluzione poi hanno fatto qualche manifestazione davanti a questa ditta a Livorno per capire come mai queste ditte potevano vendere le armi all'Iran che è sotto imbargo. In effetti questa è la cosa molto importante perché voi italiani che scegliete i politici dovete sapere come può succedere una cosa del genere cosa fanno i politici perché queste ditte possono raggirare l'imbargo e vendere le armi che poi vengono usate contro i manifestanti. altre cose come ho scritto per esempio è stato visto più volte uso dei gas a parte quello lacrimogeno ma i gas chimiche contro manifestanti nella parte di Kurdistan e poi queste pallottole che diciamo da caccia che contengono praticamente alcuni più di 500 pallottoline piccole e quindi ora io non ho fatto vedere tutto il corpo di quella donna perché veramente fa senso anche a me ma lei ha 550 pallottoline in corpo e la cosa peggiore dopo questo che praticamente negli ospedali loro hanno chiesto all'organizzazione dell'ospedale che devono dare il nome di chi viene con queste cose quindi la gente magari non va all'ospedale perché sanno che se vanno lì magari vengono arrestati eccetera eccetera e far uscire 500 pallottole probabilmente non è possibile quindi tanti loro avranno problemi di infezione insomma nel corpo eccetera quindi non è solo quello che vediamo ma anche conseguenze di chi viene ferito con armi da guerra non va in ospedale o le cose del genere purtroppo queste pallotte le vengono sparate anche contro i bambini come vedete quella ragazzina giocava nel balcone di casa sua gli hanno sparato ha perso l'occhio e sono veramente tantissimi numeri tantissimi numeri di persone che hanno perso l'occhio in questo diciamo in questi giorni perché poi è venuto fuori da un'altra ricerca che i militari vengono gli insegnano o gli dicono che devono sparare agli occhi o alle donne nelle parti intime perché crea disagio alle donne così non escono più fuori ci sono veramente delle cose altre cose che forse avete sentito forse avete visto durante i mondiali per esempio in queste manifestazioni tantissimi tantissime persone che lavorano nello spettacolo arte o atleti sono anche loro hanno praticamente hanno fatto vedere la loro disapprovazione verso il governo e invece il governo cosa ha fatto o li ha fatto fuori dal loro campo per esempio Alie Daï che è stato uomo del gol nel 98 credo del mondo gli hanno chiuso il suo negozio non può più lavorare hanno fatto scendere la sua familiare quando erano sull'aereo per andare a Dubai e come hanno arrestato non so terroristi li hanno fatto scendere praticamente l'aereo e li hanno bloccato per non uscire dal paese e il Nazare capi che forse avete sentito la ragazza che nelle gare credo mondiali ha tolto il velo e grazie veramente all'attenzione internazionale che lei ancora viva perché per me era morta e non so veramente che coraggio ha per tornare in Iran perché veramente è un coraggio incredibile ma con tutto questo lei è stato in arresto a casa e hanno detto che è stanca e deve essere a casa ma in realtà è in arresto domiciliare credo e hanno anche distrutto la casa del suo fratello cioè non possono toccare lei perché è sotto cioè internazionalmente lo vedono ma invece vanno a distruggere la casa dei suoi familiari poi ovviamente come vedete nell'immagine quello che è successo a Qatar tantissimi iraniani hanno fatto una lettera e hanno chiesto da FIFA di non permettere all'Iran di giocare invece questa cosa è diventata proprio una cosa di propaganda del governo quindi hanno mandato questi calciatori ovviamente sono stati pagati e quindi sono venuti a Qatar per normalizzare la situazione per far vedere che in Iran è tutto normale la gente ama calcio invece la sera che Iran ha perso una gara le persone da quanto erano contenti sono venuti per estrada e sono stati ammazzati altre persone invece è diventato purtroppo una cosa per propaganda altri esempi sono per esempio Too Much la musica che avete sentito è all'inizio di questo giovane rapper iraniano che dall'inizio è stato arrestato ora sono cinque mesi che è in galera senza motivo non può vedere i suoi familiari ed è praticamente li hanno torturato non può andare in ospedale all'inizio non sapevano per mesi nemmeno dov'è perché non dicono non dicono dove sono i prigionieri ovviamente ha attrici eccetera lei è un'altra attrice iraniana che dall'inizio ha tolto il job obbligatorio e subito è stata arrestata dal governo e ancora purtroppo non hanno lasciato insomma lei per farlo breve non si può farlo breve altri crimini del regime una cosa che ora potete leggere velocemente ma una cosa che per esempio succede tantissimo quando vengono ammazzate le persone o vengono arrestati minacciano tantissimo i loro familiari così loro non devono parlare con nessuno e dire che cosa sta succedendo per questo anche che il numero delle persone arrestate o ammazzate è sempre meno di quello vero i giornalisti vengono tutti arrestati ora sono più di 33 giornalisti che sono arrestati dall'inizio della manifestazione medi esteranieri ovviamente non possono entrare lavorare gli iraniani all'estero vengono minacciati tramite ambasciata iraniana perché devono stare zitti e questo è uno dei motivi per il quale noi chiediamo questo chiediamo che i paesi europei o nel mondo devono smettere a collaborare con ambasciatori iraniani li devono chiudere li devono mandare via perché non rispettano nemmeno i loro cittadini che non sono in iran ovviamente le famiglie che vengono minacciate fotografi attivisti che dall'inizio sono stati arrestati sono tantissimi specialmente fotografi perché erano quelli che facevano vedere cosa succedeva un'altra cosa che hanno inventato questi praticamente quando una persona viene ucciso specialmente con le pallottole da guerra non rilasciano la salma prendono tantissimi soldi intanto per la pallottola poi se paghi queste cifre ti daranno la salma ma tante volte nemmeno ti daranno la salma ma lo mettono in un buco senza dirlo a familiari dopo che lo hanno seppellito chiamano i familiari proprio per torturare anche psicologicamente le persone e i cittadini ok vi ho detto anche ovviamente questo avete visto i video che sparano sui passanti le macchine vi ho detto il povero ragazzino una cosa che per esempio vi volevo far vedere il ragazzino che vedete con pezzi di ghiaccio che è diventato una cosa veramente triste era quella famiglia in macchina che gli hanno sparato la sua mamma da paura che prendevano magari la salma e non la davano indietro ha dovuto tenere la salma in ghiaccio dalla paura praticamente c'era un altro ragazzo che hanno ammazzato il suo fratello e lui dalla paura che rubano la salma ha messo questa in macchina per una sera una notte intera per portarlo a seppellire da un'altra parte tantissima purtroppo tortura mentale psicologico ai cittadini purtroppo altre cose molto gravi che vediamo nella giustizia ovviamente le persone che vengono arrestati non possono scegliere avvocati scelti da loro quindi avvocati vengono scelti dal governo il giudice è del governo e ovviamente alla fine quello che succede è se li ammazzano sarà un omicidio fatto dal governo perché nessuno può veramente difendere queste persone altre cose per esempio nei prigioni dal punto di vista di sanità non permettono ai prigionieri di andare in ospedale di essere curati vengono ovviamente torturati i tumaggi il cantante che avete visto prima li avevano rotto credo la mano non poteva andare in ospedale e non è ancora andata in ospedale altro immagino che vedete Orash Soderi che ha un cancro e per mesi non ha potuto ricevere la sua medicina e altre cose purtroppo contro le donne che vengono arrestate ovviamente abusi sessuali purtroppo Armitabba sia una delle tante ragazze che è stata violentata dalle forze del insomma nel prigione e ancora qualche giorno fa anche i suoi avvocati hanno detto che non vogliono più difenderla probabilmente li hanno minacciato così tanto che hanno smesso di difenderla infatti stanno cercando magari qualche persona all'estero che ora lo fanno che può prendere responsabilità politica di questa persona così dall'estero possono vedere che sta succedendo a questa persona perché credo che è cominciato da Germania questo movimento cioè i politici vengono e prendono responsabilità delle persone che sono in prigione che vengono per esempio condannati a morte e questi politici tramite ambasciati iraniani chiedono di queste persone così non possono facilmente ammazzarli o come lei non possono capire che sta succedendo veramente a quelle persone come? Patroncino politico esatto grazie ora quello che noi vogliamo quello che noi vogliamo quando veniamo a parlare per voi vogliamo che intanto non credete che il discorso del velo è una cosa culturale perché ormai vedete che la gente va per strada vengono ammazzati torturati eccetera per dire che noi non vogliamo il velo quindi quando i politici dicono ah no ma queste sono questioni interne di un paese è una questione culturale non è vero e lo fanno vedere morendo diciamo un'altra cosa che vogliamo che voi non siate indifferenti a quello che sta succedendo in Iran perché voi avete avuto fascismo credo ricordate o avete sentito se in una parte del mondo non c'è la libertà poi piano piano prenderanno anche altre altre parti del mondo quindi il silenzio aiuta a diciamo a questi governi di espandersi e quindi se potete usare il vostro potere potete votare potete parlare con i politici o partecipare semplicemente alle manifestazioni così aiutate a far capire anche ai vostri politici quello che pensate e se siete contro di questi comportamenti nel mondo non solo in Iran ma anche nel mondo non credete che il regime islamico può fare le riforme infatti ora ve lo racconterà ora ma abbiamo letto tante volte giornalisti anche italiani o anche americani che scrivono che noi iraniani vogliono le riforme sociali o economici ma in realtà non è così quello che iraniani cercano di far vedere al mondo è che noi non vogliamo più questo regime il punto vogliamo essere liberi vogliamo decidere il nostro governo un governo democratico e non teocratico quindi se sentite da qualche parte che vi dicono che vogliono le riforme su economia sulle cose del genere non è vero altra cosa che purtroppo vediamo tantissimo è il discorso del petrolio purtroppo Iran può essere uno dei paesi più ricchi del mondo ma perché abbiamo petrolio invece obiettivi politici di altri paesi non permettono ai politici di vedere la verità noi sentiamo diciamo l'odore del sangue ma i politici sentono l'odore di petrolio purtroppo quello che è successo anche lunedì nell'assemblea dell'Unione Europa che gli iraniani volevano se poi posteranno volevano vedere questo gruppo sotto gruppi terroristici non è stato votato perché come si chiamava esatto Borre ha detto che scusate che mi scordo ma è emozione ha detto che non possiamo essere sentimentali insomma se non ci piace un regime non possiamo dire che sono terroristi però se pensiamo bene quello che diceva Behrouz quando Seppor ha sparato al volo ucraina non so se potete dire che non sono terroristi loro hanno fatto questo era una cosa programmata praticamente poi se un governo ammazza i suoi cittadini non possiamo dire che non sono terroristi comunque non è discorso di piacere o no è discorso della vita delle persone insomma non volevo mi piaceva mettere quell'immagine perché quando iraniani sono stati in Germania a manifestare in 50.000 ci sono stati anche tantissime persone che sono venuti da varie parti del mondo per solidarietà solidarietà quindi quello che chiediamo credo è solidarietà verso iraniani grazie 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 grazie